Nessun allineamento favorevole in vista per te, mio caro ragazzo. Le tue scelte potrebbero rovinare tutto, anche quello che non è iniziato. Fanciullo, in tuo aiuto vengono i pianeti Venere e Giove. Non temere, vai e conquista quello che desideri. E ritieni che sia saggio portare a convimento i consigli che ti danno le pazze lunatiche. Solo tu puoi sapere cosa è giusto fare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.